La simpaticissima Mara Maionchi avrebbe stupito tutti durante la semifinale di X-Factor, il famoso talent show che va in onda in televisione. Infatti la bella Mara si sarebbe lasciata andare ad un romanticissimo fruttiamo e avrebbe scatenato il pubblico sia da casa che da studio. Qualcosa però sarebbe andato storto e non entro nel merito perché non voglio andare a ledere la privacy di questa simpaticissima donna che considero molto carismatica e piacevole. Detto questo non aggiungo altro, questo video non vuole ledere la sua privacy, nemmeno quella della sua famiglia, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto a X-Factor nella semifinale di questo bellissimo talent show televisivo. Un saluto caro, il video termina qua, ripeto, iscrivetevi e buona giornata a voi tutti.